Francavilla-Vastese è in chiave abruzzese l'assoluto incontro di cartello della quattordicesima giornata di Serie D. Per l'occasione la società del presidente Gilberto Candeloro ha indetto la giornata giallorossa per cui non saranno validi gli abbonamenti. Proprio la squadra di Iervese ha interrotto un momento no con il blitz di Iesi, ma per l'arrivo del quotatissimo avversario il Francavilla deve da un lato fronteggiare la sua sindrome casalinga, dall'altro deve fare i conti con le tante assenze. L'ultima quella del centrale Amenta che si aggiunge alle squalifiche di Mele e Mancini, ad altri infortunati come Fofanà, Fiore, Dipentima e poi le condizioni non al 100% di Zerbo e Miciche. Sì, come abbiamo detto la settimana scorsa non parliamo più di queste essenze, la squadra siamo in 20, giocheranno in 11 quindi cerchiamo di mettere in campo la migliore formazione possibile, sono convinto che chi giocherà darà il meglio di sé ma la mia convinzione è quella che domani, essendo anche un derby, una partita molto sentita ci teniamo in particolar modo a cercare di regalare ai nostri tifosi una vittoria. A Vasto c'è invece entusiasmo alle stelle, 8 vittorie ed un pareggio nelle ultime 9 partite la vittoria al Cardiopalma sul Castelfidardo, un terzo posto solido tenendo la scia delle prime della classe e una rosa al completo. Colavitto dovrebbe affidarsi alla squadra che ha giocato all'Aragona domenica scorsa e introduce così il match nell'intervista rilasciata al sito vasport.it. Ha una rosa ampissima quindi non penso che qualche indisponibile gli possa creare problemi detto ciò noi andremo lì con la voglia di sempre e con enorme rispetto appunto come vi dicevo per questa squadra perché comunque ogni partita è una partita difficile da affrontare. Spettacolo anche sugli spalti, col pubblico delle grandi occasioni e le tifoserie amiche ma sul campo sarà battaglia. Altra squadra in condizioni smaglianti è l'Avezzano che non perde da nove turni ed è reduce dalla cinquina al San Nicolò. Per i Marsicani è stata una settimana speciale per l'udienza avuta da Papa Francesco mercoledì. Domani testa al Tubaldi contro una Re Canatese che vorrà reagire alla serie di tre sconfitte consecutive e ad una classifica molto precaria. Marsicani senza persi è squalificato e Branicchi infortunato. Fanti è acciaccato ma il tecnico Giampaolo loda la mentalità vincente che è cresciuta nel gruppo e chiede ai suoi un grosso sforzo per chiudere bene il girone d'andata. È dura perché su quattro partite abbiamo tre partite fuori casa e un in casa tra l'altro un altro derby con il Pinedo che è una buonissima squadra. Adesso bisogna fare uno sforzo mentale ancora più grande di quello che stiamo facendo perché dobbiamo essere bravi a chiudere il girone d'andata con prestazioni che la squadra ha dimostrato di fare e di dare. Mentalmente bisogna essere pronti, bisogna saper gestire bene le situazioni che potrebbero capitarci. Anche una prestazione che potrebbe starci anche sotto tono, dobbiamo essere bravi ad essere equilibrati e a gestire anche momenti difficili. Dopo due pareggi di fila vuole tornare a vincere il Pineto. Domani trasferta a Castelfidardo, i marchigeni sono stati la rivelazione della prima parte di stagione. Hanno fatto tremare la vastese ma i numeri parlano ora di crisi. Quattro sconfitte e due punti nelle ultime sei gare. La squadra di Amaolo vuole approfittarne per restare in scia al treno playoff. Pesa l'assenza di Pepe, appiedato per tre giornate. Infine l'Aquila che ospita l'ostico San Marino. Potrebbe essere l'ultima a pieno organico per i rosso-blu nella settimana che porta alla riapertura del mercato e soprattutto all'assemblea societaria.